My heart is a ghost town Benvenuti in Legenda's Bug, qui è Francesco Almasio e oggi volevo informarvi che ho deciso tramite anche un sondaggio che ho fatto sul canale Telegram di postare i giorni in cui pubblico i video della settimana invece di essere il martedì, giovedì e il sabato alle 14.30 ho deciso di fare il lunedì, il mercoledì e il venerdì sempre alle 14.30 il motivo è che il sabato difficilmente le persone guardano i miei video e quindi ho deciso di fare questo spostamento inoltre colgo l'occasione per informarvi che a metà gennaio inizierò un master in mediazione linguistica verso migranti il master durerà per tipo un anno e sarà fatto durante il venerdì e il sabato quindi ovviamente le live che magari vi portavo il venerdì e il sabato non verranno fatte magari per dire non sarò così stanco e riuscirò a giocare ma sarà una cosa veramente un po' impossibile quindi essenzialmente per quanto riguarda il lato gaming sicuramente cercherò di esserci durante la settimana e verso la domenica poi dipenderà dai vari impegni, dagli studi e da altro che magari dovrò portare avanti quindi ogni volta capirete bene quando e se potrò pubblicare in ogni caso voi sostenetemi quindi mi raccomando con i mi piace con i commenti, con il fatto di seguirmi tramite attivando la campanella e tramite i vari canali telegram e il gruppo telegram con cui sta crescendo un buon rapporto devo dire che mi trovo veramente bene con tutti e ovviamente vi anticipo che i giorni in cui solitamente pubblico i video non c'è sicurezza che pubblicherò dei video è un fatto di buonsenso perché io tendo a fare dei prodotti ottimi quindi vorrei portarvi un prodotto ben fatto piuttosto che registrare un video che mi occupa anche delle ore di editing e di renderizzazione per poi portare un video che è fatto un po' a metà e devo per forza fare un altro video magari per spiegare delle cose ancora più semplici se non vedete dei video magari nei giorni in cui dovrei pubblicare dei video non è perché non voglio pubblicare i video o perché non posso pubblicare i video ma perché evidentemente non ho trovato delle informazioni che voglio condividere con voi e quindi magari semplicemente troverete qualche notizia flash sui canali telegram ma per farci un video ci vuole tempo e quindi preferisco studiarmi bene un prodotto piuttosto che darvi un servizio fatto a metà come vi ho appena detto in ogni caso per quanto riguarda le live a livello di pianificazione sono messo abbastanza bene quindi sono già quasi fino alla fine di gennaio ma in ogni caso visto che comunque dovrò studiare non è detto che riuscirò ad esserci come riesco ad esserci quasi ogni sera in questo periodo sarete informati tramite i canali telegram che sono le piattaforme che utilizzo di più per informare la gente spero questo video vi sia piaciuto lasciate un mi piace, commentate, condividete e mi raccomando sostenetevi in questo periodo perché poi sicuramente usciranno dei video molto interessanti vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo ad un prossimo video vi consiglio inoltre di partecipare al contest natalizio di GTA se non lo avete ancora fatto perché giovedì c'è l'estrazione e quindi siete ancora in tempo per poter partecipare vi ringrazio per l'attenzione e ad un prossimo video ciao ragazzi ciao